Samba Sambucci La difesa ha ancora qualche buchino, i lanciatori cominciano a tirare bene, i battitori cominciano a vedere Contro Polonia negli ultimi 15 anni, a parte quei tre anni che ho giocato qua, è sempre stato così Chi fa meno lo rivince, rispetto a ieri abbiamo giocato con molta più grinta Abbiamo sfruttato l'occasione e siamo andati avanti Tu come stai? Sei stato assente per un periodo abbastanza lungo in inizio stagione Sei rientrato oggi, come ti senti? Ti voglio dire, non mi devo ritornare, è fatto un mese in cui avrei potuto giocare fasciato con l'antidolorifico Ma non ho preferito lasciarmi a riposo Adesso ho detto basta, io ho rotto le scatole e voglio giocare Oggi ho avuto l'occasione e spero di averla sfruttata Posso chiederti l'ultima cosa, in questa partita così strana, così altalenante, però l'orgoglio finale è un po' tirato fuori dal nulla perché sembrava un po' piatta la squadra all'inizio O era una sensazione che avevamo noi sugli spalti? Sai, giocare con Bologna non è mai facile, anche se abbiamo giocato tante volte la tensione si sente A volte la tensione tende un po' ad abbatterti, diciamo Però come vedi abbiamo sfruttato l'occasione Sarà una vittoria di squadra Tutti quanti hanno dato il loro contributo, i lanciatori, tutti quanti Quindi più di così vedremo che piano piano andremo avanti Grazie mille e buona serata